Ai! Ok, da quando è permesso sparare alla gente in questo ospedale? Adesso anche la Bailey mi ha mollato. Sei assegnato a lei. Perché sei ancora in paranoia? No. La Bailey sta operando. Io devo controllare il contenuto del drenaggio ogni dieci minuti. Ai! Senti, smettila. Cerca di rilassarti. Hai una giornata facile. A Shattered non servivo e mi sono fatta un pisolino in biblioteca. Dammi... dammelo. Taccia da fessa. È una giornataccia. Il nuovo Robbins non è la Robbins. Scott armata per portare uno yogurt al paziente. Dai, chi è? È Bonovox? È Bonovox e lo dice tutto l'ospedale. Non è Bonovox. Vai da Cristina stasera? Non lo so. Ok. Non è ok. Dai, è come una droga. Mettilo prima che mio marito ti inchiodi al pavimento. Dammela. No. Dammi la pallina. Dai. Che problema ha? È una giornataccia. E' OFTEN. Lo so è come. Iługotri.